Ben trovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Manuel Pasqual, il capitano della Fiorentina, si conferma testimonial dell'Associazione contro le leucemie, linfomi e mielomi AIL Firenze. Una collaborazione vincente per lo spirito con cui lo sportivo ha aderito alle iniziative di AIL per la sintonia perfetta con l'Associazione che da anni si batte per stare accanto alle famiglie e contribuire attivamente alla ricerca scientifica. Capitano dobbiamo vincerle, questo è il motto della nuova campagna di sensibilizzazione di AIL Firenze. Il gioco di parole tra capitano e capitano è il pretesto per sottolineare quanto in certe situazioni sia fondamentale non perdere mai la speranza e combattere insieme con la ricerca scientifica a supporto del malato e del suo nucleo familiare. Capitano dobbiamo vincerle, è il motto che ha scelto AIL. Il capitano dei Viola, Manuel Pasqual si è messo in posa in piazzale Michelangelo per realizzare questa immagine a sostegno dell'Associazione e per dare un messaggio di speranza a tutti coloro che stanno affrontando questo percorso difficile. Da circa un anno il calciatore sostiene la ONLUS prestando la propria immagine e partecipando sempre con entusiasmo ai vari eventi di sensibilizzazione. Una collaborazione nata da una visita di Pasqual in casa AIL, la struttura che ospita gratuitamente le famiglie dei pazienti che devono sottoporsi a cure e visite mediche per leucemie, linfomi e mielomi. In casa AIL Manuel Pasqual ha conosciuto alcune famiglie della struttura, le loro storie e le loro angosce ed è in questa struttura che ha potuto anche verificare il sostegno che AIL dà ai pazienti e ai loro familiari. Un sostegno che nasce dalla forza dei volontari dell'Associazione. Proprio il prossimo 5 novembre partirà il nuovo corso per volontari AIL, un corso totalmente gratuito a cui seguirà un periodo di affiancamento ad esperti e quindi la scelta degli stessi volontari se operare presso Casa AIL, presso Careggi, presso l'ospedale pediatrico Meyer o nelle manifestazioni e negli eventi di sensibilizzazione. Uno di questi eventi speciali organizzati dall'Associazione si terrà il 22 novembre dal titolo AIL loves running, una corsa camminata non competitiva da 10 e da 4 chilometri per le strade di Firenze per combattere insieme le eucemie, linfomi e mielomi. Noi diamo un'assistenza logistica e molti di questi ospiti consigliano a queste due case che abbiamo di accoglienza come del loro secondo case, insomma questo ci fa enormemente piacere. e quindi attraverso il volontariato, quello concreto, cerchiamo di dare un aiuto a queste persone. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Grazie a tutti.